Hey la 3D Artist, bentornati. Anche se in realtà il breve video di oggi non è dedicato solo a quelli del settore, ma vuole abbracciare un pubblico un po' più vasto, anche semplicemente di appassionati di film e corti di animazione. Se vi ricordate, nello scorso video dove parlavo del sito dedicato a rigger e animatori, raccontavo del fatto che ogni tanto mi piace cercare e guardare corti di animazione. Purtroppo però a cercare nel vasto mare di YouTube spesso ti passa un po' la voglia. Quando infatti poi avevano annunciato l'uscita di Love, Death & Robots su Netflix e SparkShore su Disney+, ero felicissimo perché avevo dei corti da guardare e facili da trovare. E adesso un altro annuncio che, come dire, mi rende molto felice da questo punto di vista è l'uscita di BlendStream. BlendStream è un sito molto simile ad una piattaforma di streaming come ad esempio appunto un Netflix o un Disney+, dove però vengono raccolti tutti i corti di animazione e anche corti live action, nella cui pipeline di produzione però è stato usato anche Blender. Ai contenuti di BlendStream si può accedere anche senza dover per forza creare un account, però una volta eseguito l'accesso ed è possibile farlo soltanto tramite un account Discord, sarà possibile anche a voi aggiungere contenuti sulla piattaforma, a patto che ovviamente siano corti fatti da voi o che abbiate almeno partecipato alla loro realizzazione e che nella loro pipeline di produzione sia stato usato anche Blender. Per far sì che visualizzazioni ed eventuali ricavi vadano ai creatori dei contenuti, i corti non vengono caricati direttamente sulla piattaforma, infatti al momento della riproduzione si viene reindirizzati su YouTube dove effettivamente vengono caricati i file. Facendo così gli artisti vengono maggiormente tutelati e la piattaforma può rimanere gratuita. L'idea di BlendStream nasce da Carty Salt e Joshua Nuber. Essendo però una piattaforma abbastanza nuova i contenuti non sono ovviamente tantissimi, ma si spera che col tempo cresca e che molti più titoli vengano aggiunti al sito, in modo da rendere così più facile la fruizione di questo tipo di contenuti, permettendo anche agli appassionati di cortometraggi di animazione e non di esplorare più facilmente e scoprire nuovi artisti e studi di produzione. D'altra parte poi dà anche la possibilità ad artisti e studi emergenti di rendere le loro opere più facili da cercare, in modo da avere così anche più visibilità. Quindi, se siete uno studio di animazione emergente e volete farvi notare, o anche semplicemente siete appassionati di corti, vi consiglio di dargli un'occhiata. Metterò ovviamente il link del sito in descrizione. Come al solito, spero che questo breve video vi sia piaciuto, ma che soprattutto vi sia stato utile, invitandovi quindi a lasciare un like e iscrivervi al canale, attivando la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Ci vediamo alla prossima, buon 3D e buona visione!